eh dottor ma... si spogli! ma sono venuto per... oh santa pazienza ho detto si spogli vado in quella stanza e si spogli! abbia pazienza... avanti un altro! ma ancora qua lei è stato tu? si spogli! non è andato il tempo di parlare! si spogli! e io mi spogli! io stavo a dire che c'ho le tonzili! si spogli! non mi spogli! a me lo stia a dire! io sono venuto a consegnare un telegram!